Siamo al Trigno Ovest. Pulito. Certo preso, sedia. Buonasera a tutti ragazzi, allora, io ho tardato un attimino per fare il video della doccia e il Trigno, l'ho fatta nel pomeriggio, e ora è sera come si vede, allora io sono a Bari, sono al porto e sto facendo la pausa, allora sono stato alla Tessa, al carico e ho portato il rimorchio qui al porto di Bari, domani ne devo agganciare un altro, siccome non è ancora sbarcato dalla Grecia e siccome ho soprattutto, devo fare la pausa, allora sono qui nel parcheggio dal porto a fare la pausa, domani mattina per le sette, sette e un quarto riparto e lo vado ad agganciare, riparto, devo andare a Mesagni, allora mi sono fatto la doccia quindi al Trigno, Trigno Ovest, una stazione di servizio, un'area di servizio che è molto frequentata da dai camionisti, difatti il parcheggio là a un certo orario non si trova più, comunque ricordavo che c'era una doccia, quindi mi sono fermato con la certezza di farmi una doccia, è un Sarni, ci sono due docce, io sono andato alla numero due, però la numero uno penso che sia uguale, si paga 2,50 euro, però ne vale la pena, dai, rispetto agli altri Sarni che comunque non si pagano, questo si paga, non so perché, però ne vale la pena, perché avete visto, è ballo grande, era pulito, io l'ho fatta alle 5, però penso che comunque magari più in più in là, se era utilizzata, un po' di acqua a terra si trovava, però io sono stato fortunato, non ho trovato nulla, quindi era molto pulito, c'era la sedia, l'asciugare capelli, l'appendicappatoio, il box dolce era grande, spazioso, l'acqua calda ovviamente è uscita, quindi un bel sette e mezzo, va bene? Beh, ciao ragazzi, al prossimo video!